Dopo la scomparsa di Luigi Baldini e Michele Lizzori, rispettivamente presidente e vicepresidente di Aido Piacenza, l'associazione ha dovuto fare i conti con queste due gravi perdite e riunire il Consiglio per eleggere i nuovi componenti. Roberto Mares è stato nominato presidente, affiancato dal vicepresidente Vicario Piercarlo Cigale e vicepresidente Gina Torreggiani. Rinnovato anche il Consiglio, il gruppo porterà avanti le battaglie di Baldini e Lizzori, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti economici, il fare squadra e la scelta di donare tramite carta d'identità. Lui aveva fatto delle ottime cose con tutti i gruppi comunali, era riuscito a riavvicinarli tutti ed era riuscito anche a trovare degli ottimi rapporti soprattutto con il Consiglio regionale. Come sapete l'Aido non riceve nessun contributo da nessuna istituzione, tutto grava sulle nostre spalle, soprattutto sui gruppi comunali che sono quelli alla base che poi logicamente con i loro contributi aiutano tutte le strutture a cominciare dal provinciale fino al nazionale. Quindi noi cercheremo di aiutarli nel limite del possibile, logicamente. Sicuramente l'invito che facciamo a tutte le amministrazioni comunali è quello nel limite del possibile di aiutare questi gruppi perché altrimenti non ce la fanno, sono proprio quasi tutti al collasso dal punto di vista economico. Stiamo lavorando per cercare degli sponsor che ci aiutano per questa situazione. Direi che avremo una sorpresa per la fine di giugno quando ci sarà la partita per la vita e l'appello che voglio fare ancora, se mi permettete, è quello ai sindaci per la scelta in comune. Noi continuiamo a battere questo tasto perché è giusto che venga portato avanti visto che è anche a norma di legge, quindi lo devono fare. In comune adesso sono circa 23, anzi non senza circa, sono 23 che ormai hanno aderito alle scelte in comune. Ne mancano ancora parecchi.